È stata una giornata terribile, bellissima, angosciante, molto bella, siamo credo tutti molto contenti. Penso soprattutto che anche qui, anche in questa campagna elettorale, si è capito come la rete è uno strumento che aiuta la democrazia e la partecipazione. La rete è orizzontale, la rete è democratica, la rete apre spazi e io credo che sia molto bello, molto importante quello che qui è successo, molto importante quello che da qui dovrà succedere, perché questa logica orizzontale non serve soltanto per la campagna elettorale, non serve soltanto per prendere voti, è la logica giusta con la quale anche riuscire a governare, creare il consenso, recepire quello che viene. Insomma, mi sembra una logica importante e interessante, quindi avanti così mi sembra che sia stata ben usata e credo che l'uso della rete per i fini che sono quelli giusti, che sono quelli dell'apertura, moltiplica, moltiplica, è uno strumento che moltiplica, credo che questa sia stata veramente una grande esperienza, avanti così allora. Grazie. Grazie.